Ben 10.000 quadrati di maglia lavorati ai ferie o all'ucinetto distesi in piazza Bra, attorno all'arena e sulla scalinata di Palazzo Barbieri. È la coperta per Giulietta, l'iniziativa dell'assessorato alle pari opportunità del Comune di Verona in collaborazione con l'associazione Ad Maiora e l'associazione protezione della giovane per festeggiare l'8 marzo e soprattutto per dire no alla violenza sulle donne. L'abbiamo chiamata Viva Vittoria Verona, la coperta per Giulietta. Sappiamo che Giulietta è stata una vittima di violenza in quanto è morta perché le famiglie non le hanno permesso di vivere il suo amore e quindi proprio per manifestare questa unione, questa voglia di mettere insieme tutte le energie per aiutare le donne che hanno subito violenza e vogliono uscirne, vincitrici, noi abbiamo pensato di mettere in vendita questa opera d'arte condivisa relazionale. Abbiamo messo insieme un sacco di realtà, anche uomini che amano le donne che si sono cimentati nel lavoro a ferri. Un'opera davvero particolare e unica che parla di arte, di relazione e di solidarietà. Il ricavato della vendita di ogni pezzo della coperta per Giulietta sarà devoluto a sostegno delle attività del centro antiviolenza Petra e della casa Rifugio. C'è da dire che comunque abbiamo mosso il mondo e in questo modo abbiamo raccolto 10.000 quadrati di lana che sono servite oggi ad abbellire la nostra bellissima già Piazza Bra, ma anche a dare un significato forte. 10.000 persone che hanno apposto la loro firma su ogni quadrato, a testimonianza che ognuna di loro si è presa un impegno vero, forte, per aiutare a combattere la violenza.